Inizio la preparazione incidendo una sfoglia rettangolare di pasta sfoglia con un coppapasta tondo di 6 cm di diametro. Disponghi i cerchi sulla teglia da forno coperta con carta forno, con i rebbi della forchetta a bucarello metà dei cerchi, sarà la base dei bomboloni. Pennelli invece con un goccino di latti restanti cerchi, copro con un pochino di zucchero, questi andranno a formare la parte superiore dei bomboloni. In forno, in forno già caldo e statico a 200 gradi per circa 15 minuti o fino a doratura. Nel frattempo preparo la falcia, in una ciotola capiente metto 500 g di mascarpone, 100 ml di panna da montare zuccherata e 250 g di nutella. Lavoro con le fruste elettriche fino a quando ottengo una falcia bella soffice. Utilizzando una sac a poche con beccuccia a stella, farci schi cerchi. Questi bomboloni di pasta sfoglia sono velocissimi da preparare, ma straordinariamente buoni e sfiziosi. Vi assicuro che resterete stupiti da tanta bontà. Auguri miei cari amici, buone feste!